Secondo me la Slovacchia deve essere considerata quasi ormai un'economia matura, nel senso che ci sono, sicuramente ci sono ancora dei differenziali nei tassi di crescita, come dicevo prima, i paesi del centro-ost Europa cresceranno, un tasso di crescita nei prossimi anni che è più del doppio del tasso di crescita dell'Europa occidentale, che è molto influenzato, questa crescita è molto influenzata dalla crescita tedesca, stiamo assistendo a una ripresa degli investimenti esteri nel paese, vediamo sempre più interesse, sempre più aziende a venire in Slovacchia, c'è sicuramente un forte movimento, c'è sicuramente una positività, dopodiché la Slovacchia è considerata però occidentale, perché avendo questo grosso confine con l'Austria, la facilità di movimento con l'Austria, in un'ora si arriva a Vienna e quindi sicuramente è anche una sorta di piattaforma logistica, con costi inferiori.